Prima di guardare il video, due cose, non sono tornato su YouTube, non ho intenzione di mettere il video in maniera costante, mi hanno anche cancellato l'account AdSense Seconda cosa, il format di cui stiamo parlando si chiama GoodCodeBadCode, merluzzo buono, merluzzo cattivo Quindi la risposta che ascolterete, che può sembrare di forte matrice omofoba, in realtà è obbligata dal giochetto Nel senso che se la moneta esce rossa bisogna rispondermi per forza in maniera cattiva In realtà Maurizio l'ha fatto metà e metà, perché si è reso conto che portava un tema delicato La piccola frase cattiva l'ha messa alla fine Buon ascolto, queste cose da fanboy le dovevo condividere, anche la mosca è molto felice, ciao Alla volta di Francesco, che è il nome medievale Ma è il nome medievale? Ma va bene sì, perché no? Allora io ci riprovo, visto che tu sei etero, no? Come si può fare a far capire agli uomini etero che il fatto di essere gay non vuol dire che ci piacciono tutti gli uomini? Ti raccomando non essere cattivo, mandami il GoodCode, sei un grande, anche se mi mandi il BadCode Ma non lo scelgo io Porca miseria Ricordiamo che è pesante Molto pesante Aiaiaiai Tu devi capire una cosa, e adesso sarà veramente molto difficile non usare parolacce L'uomo eterosessuale di base, anche inconsciamente, è omofobico Ok, sai che c'è sempre la battuta degli spogliatoi, camminare lungo il muro Perché l'idea per l'uomo eterosessuale di essere sodomizzato è un terrore quasi più grande della morte stessa Quindi anche quando non ce n'è assolutamente motivo L'uomo teme che il suo ego, il suo macismo, il suo vigore maschile venga messo a 90 Ora il BadCode non è tanto nei tuoi confronti quanto nei confronti dell'uomo eterosessuale in generale Certo anche tu potevi non essere gay Cosa? Spero che il video vi sia piaciuto Vi ricordo che il canale che aggiorno più spesso è il canale ASMR Che si chiama Jellyfish ASMR Non essendo ancora molto famoso Dovrete cercarlo con il filtro canali e poi scrivere Jellyfish ASMR Vi aspetto lì, ciao